Lunedì 8 gennaio è andata in onda su Canale 5 la nuova puntata, la prima del 2024, del Grande Fratello. Nonostante le ricche dinamiche nella casa e l'imminente rientro in gioco di Beatrice Luzzi, la prima serata è stata vinta nuovamente da Rai 1 che con la serie TV, La Storia, tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Moran. Dopo aver abbandonato la casa per partecipare ai funerali del padre, Beatrice Luzzi è rientrata in gioco sconvolgendo gli animi di molti inquilini. Chiusa nel confessionale, Beatrice Luzzi ha potuto assistere ad una deludente ramanzina di signorini ai concorrenti. Alcuni di loro infatti nei giorni scorsi, nonostante i numerosi appelli del Grande Fratello nel mantenere atteggiamenti decorosi e di rispetto per la scomparsa del padre della concorrente, hanno decisamente superato le righe. Mercoledì gli autori del Grande Fratello chiamano Beatrice in confessionale e le comunicano che suo papà non c'è più. Il Grande Fratello vi ha chiesto espressamente di non commentare la notizia della morte del papà di Beatrice, ha sbottato Alfonso Signorini. Si può anche non essere d'accordo, ma è una decisione presa per rispetto di Beatrice e delle sua famiglia. Credo che dopo mesi di convivenza, ciascuno di voi abbia potuto provare un sentimento nei confronti di un inquilino. Io credo che anche se il GF vi ha detto non era il caso di commentare la notizia.